La lezione che faremo oggi tenterà di inquadrare il discorso scientifico all'interno di alcuni quadri paradigmatici che permettono di intraprendere un percorso specifico. Un percorso cioè che non intende esarire un tema così ricco ed articolato, ma che permetta di iniziare un'indagine che potrà poi svilupparsi in un secondo tempo in un modo più proficuo e interessante. E proprio per questo motivo noi vedremo alcuni modelli che per comodità potremo chiamare di condanna, di accettazione e di continuità. In modo preliminare però dobbiamo subito dire sulle orme del grande sociologo e storico Max Weber che la scienza sviluppa un modo di pensare e un modo di indagare, un modo di ricercare che è tipico della modernità. La modernità cioè ha sviluppato un proprio percorso di ricerca che non è confondibile con quello di altri periodi storici o di altre culture. Modo che Weber chiamò la razionalità che si prefigge di raggiungere un determinato scopo. Quindi un agire che non tiene come elemento fondamentale, come elemento centrale della ricerca il valore o il senso, ma che inquadra un determinato oggetto e cerca di studiarlo in modo sempre più analitico, in modo sempre più invasivo. Insomma la scienza fa della ragione il proprio modo di operare e nell'intraprendere un percorso di questo tipo si prefigge scopi e oggetti ben determinati. Fatta questa premessa è possibile dire che esistono nel corso del pensiero occidentale dei modi di inquadrare il discorso scientifico abbastanza diversi. Come abbiamo visto prima abbiamo chiamato questi modelli di condanna, di accettazione o di continuità. Sono dei modelli che noi vediamo per comodità come contrapposti in tali casi o conciliativi, ma che in realtà contengono al proprio interno delle direzioni molto interessanti che andrebbero poi sviluppate in un modo più articolato, in un modo più profondo. Quindi questo primo video vuole essere solo il tentativo di intraprendere un discorso orientativo. Se volessimo cominciare dal modello di condanna della scienza, il discorso risulta abbastanza facile. Potremmo prendere come primo tema, come primo punto di partenza, uno dei dialoghi meno letti di Platone, uno dei dialoghi giovanili che reca il titolo Carmide, dove all'interno per l'appunto si tratta della fondazione, dell'importanza della scienza per l'uomo. Platone, a dire il vero, lega questo tema della scienza ad altri due temi, a quello della saggezza e a quello della politica. È merito di Platone in questo senso aver capito che il discorso scientifico era indisgiungibile da altre tematiche. Aver legato quindi scienza con saggezza e politica è indicativo perché permette subito di capire che il muoversi in un modo troppo schematico non avrebbe portato in alcun luogo. Il protagonista del dialogo, come spesso accade in Platone, è una persona fisica, è Carmide. Carmide è un giovane di bell'aspetto che ancora non è ben introdotto nel discorso filosofico e che quindi si avvale delle proprie competenze per affrontare un tema che è al di sopra delle proprie forze. A dire il vero, i protagonisti del dialogo sono tre, Carmide, Crissia e Socrate. Tra questi tre personaggi, per l'appunto, nasce un confronto, confronto che, come spesso accade nei dialoghi platonici, è un percorso a spirale, dove taluni temi continuamente tornano secondo delle direzioni sempre più ricche. Gli interrogativi e motivi che ricorrono, secondo un procedimento sempre più analitico, sono tre. Che cosa debba intendersi per saggezza? Che rapporto intercorra tra saggezza e scienza? E se la saggezza e la scienza danno vita a felicità e utilità? Carmide, che come abbiamo detto in precedenza affronta un tema al di sopra delle proprie capacità, cerca di rispondere secondo una definizione comportamentale. Parte proprio dalla saggezza. Saggio è colui che dice Platone, o meglio Carmide in questo caso, tiene un comportamento che è improntato alla calma dello spirito e al pudore. Socrate appressa che all'interno di un giovane prevalga un atteggiamento così contenuto, ma non ne condivide, come spesse volte capita nei dialoghi platonici. Non ne condivide la definizione. È una definizione quindi parziale che Socrate rigetta. La rigetta perché la calma dello spirito non costituisce un pregio, ma potrebbe costituire un limite. La calma dello spirito, infatti, ci spinge a frenare la nostra sete di indagine, la nostra sete di ricerca. E quindi non si tratta di avere uno spirito calmo, ma al contrario, dice Socrate, avere uno spirito che si caratterizza per la sveltezza, per l'intuizione e per l'amore delle cose buone. Detto in altri termini, Socrate vuole spingere il giovane Carmide a proporre un'immagine, una definizione di saggezza che non contenga limiti, ma che spinga per l'appunto a ricercare in continuazione. E d'altra parte, anche il pudore non può contraddistinguere, secondo Socrate, la persona saggia. Infatti, il pudore mette l'uomo che vuole essere saggio nella condizione di non agire, e quindi di non gettarsi nella mischia e nel non far valere le proprie ragioni. Quindi la definizione data da Carmide, è saggio colui che è calmo nello spirito e ha pudore, non è accettata da Socrate. Carmide scivola in secondo piano, ritornerà poi fuori al termine del dialogo e sale in primo piano Crizia, uno dei tre interlocutori. Crizia dà una definizione che di primo acchito sembrerebbe più stringente. È saggio colui che persegue cose buone e che tende a maturare l'arte di conoscere se stessi. Anche in questo caso Socrate non condivide la definizione e vedremo il perché, ma qui c'è da segnalare un fatto. Platone si serve, come varie volte gli accade, di un escamotage drammaturgico per tenere il discorso vivo. Difatti, mentre Carmide ha una personalità giovane e arrendevole nei confronti di Socrate, Crizia al contrario è maturo e in alcuni passaggi accusa proprio Socrate, quando viene messa in dubbio la definizione data da Crizia stesso, di voler cercare un confronto non risolutorio. Insomma, Crizia accusa Socrate di voler cercare il confronto per il confronto senza l'obiettivo di addivenire ad una conclusione condivisa. Dopo questo confronto aspro tra Crizia e Socrate si arriva ad una definizione molto interessante. Di fatti dice Socrate, solo le scienze hanno la giusta attitudine verso la conoscenza, quindi non può essere saggia una persona che non denota delle conoscenze e delle competenze specifiche. Ogni scienza, infatti, state ben attenti, dice scienze e non scienza. Ogni scienza, infatti, ha un oggetto d'indagine specifico. Avendo questo oggetto d'indagine può delimitarlo, può circoscriverlo, può indagarlo adeguatamente. La saggezza, dice Socrate, non ha un oggetto d'indagine specifico e quindi, non avendo un qualche cosa da indagare, non può proporsi come scienza tendente alla conoscenza. È un atteggiamento comportamentale, dice Socrate, bello, interessante, ma che non ci porta verso delle conclusioni scientifiche. Sembrerebbe quindi che Socrate assegni grande centralità alla scienza, che non intenda confondere la scienza con la saggezza, eppure, come spesse volte capita nei dialoghi platonici, qui accade il colpo di scena. E di fatti nel Carmide si dice Eppure, riprese quello, non troverai facilmente qualche altro fine della felicità se rifiuti quello di vivere secondo scienza. Un momento, una piccola spiegazione ancora, dissi. Secondo scienza di che cosa, vuoi dire? Scienza di tagliare il cuoio? No, per Giove. Di lavorare il bronzo? Neppure. La lana, il legno o simili? No, certo. Ma allora, dissi io, non stiamo più nel nostro ragionamento, per il quale è beato chi vive secondo scienza. Vedi, costoro, che pur vivono secondo scienza, tu non li consideri beati, ma quanto mi sembra, limiti l'uomo beato a quello che vive secondo una ben determinata scienza. Ma quella che io dico, quella che più di tutte è in grado di farlo beato, qual è? Quella attraverso la quale egli conosca il bene e il male. Quindi Socrate non ha accettato di identificare scienza con saggezza, ma allo stesso tempo non riconosce a quelle che lui chiama la scienza del cuoio, la scienza del bronzo, della lana o del legno, una capacità di dare piena forma alla conoscenza conclusiva. La vera scienza è quella che si interessa e l'arte di determinare il bene ed il male. Che cosa intende dire qui Socrate, vera scienza è quella che determina il bene ed il male? Vuole semplicemente dire che quando parliamo di scienza non dobbiamo accontentarci di una esperienza determinata, non dobbiamo accontentarci di un oggetto specifico, ma dobbiamo mettere come oggetto della vera scienza la esperienza generale dell'uomo e di conseguenza la scienza non potrà avere un oggetto specifico ma l'intera esperienza dell'uomo. Questo è un percorso molto interessante perché Socrate, o meglio qui Platone, ci fa capire come la scienza vada coniugata con altri due termini particolarmente centrali nel discorso che faremo, ovvero sia la scelta, il tema della scelta e la responsabilità. Non c'è vera scienza senza scelta e responsabilità. Dopo il modello platonico che come abbiamo visto condanna una scienza che espunge da sé il discorso sul bene e sul male, veniamo invece ad un modello di accettazione incondizionata della scienza, anche se qui il termine scienza si coniuga, come vedremo subito, con un altro termine importante, ovvero sia la tecnica. Stiamo parlando del modello che ci è proposto da uno dei massimi esponenti dell'antropologia filosofica contemporanea, Arnold Galen. Galen, nei suoi famosi saggi, intraprende un percorso secondo il quale il discorso intorno alla scienza e alla tecnica non può essere fatto se non inquadrandolo all'interno di un quadro antropologico di riferimento. Quindi il discorso scientifico e tecnologico non può sfuggire ad un discorso che comprenda al proprio interno un quadro di riferimento antropologico. Secondo Galen, l'uomo non solo, come si era detto con Aristotele, è un uomo che per natura tende alla socialità, ma l'uomo per natura tende anche alla produzione tecnica. e quindi la tecnica è un elemento connaturato all'essenza dell'uomo stesso. Gli animali, infatti, dice Galen, hanno degli schemi innati di comportamento che permettono loro di adattarsi all'ambiente. L'uomo non ha alcuno schema innato di comportamento e per sopperire a questa carenza, e quindi viene fuori questa immagine dell'uomo come essere carente, deve affidarsi alla produzione di manufatti, deve affidarsi alla produzione di strumenti. Detto in altri termini, deve affidarsi alla tecnica. Senza il discorso tecnologico, il destino dell'uomo sarebbe quello di un essere carente, indifeso, che andrebbe incontro sicuramente alla scomparsa. Quindi la tecnica, secondo Galen, sale in primo piano e diviene l'elemento qualificante dello sviluppo e della storia dell'uomo stesso. Agire in un quadro di questo tipo non è una scelta, ma diventa una necessità. Maria Teresa Pansera, che è una delle più importanti studiosi e studiose del pensiero di Galen, a questo proposito nota. Nasce così la tecnica, che è una delle più importanti realizzazioni dell'essere umano. Infatti, la teoria gheliana dell'uomo come essere carente, incapace di sopravvivere in qualsiasi ambiente naturale per mancanza di organi e istinti specializzati, trova nell'abilità tecnica quel supporto necessario ad un miglior adattamento dell'individuo all'ambiente. La tecnica diviene così la misura dell'intelligenza umana, la quale acquista il suo peculiare significato soltanto in rapporto all'insufficienza degli istinti e alla incompletezza degli organi. Il destino che attende l'uomo, secondo Galen, quindi è molto semplice. L'uomo dovrà sostituire alla prima natura biologica una natura artificiale che gli permetta di sopravvivere. Si tratta, dice Galen, di una situazione di eccezionalità. Eccezionalità come condizione ed eccezionalità come destino. Quindi l'uomo è un essere eccezionale perché è posto in una condizione unica, ma anche il destino che lo attende è eccezionale. Per il semplice fatto che l'uomo non può sottrarsi ad un compito di questo tipo. Gli apparati tecnologici, nel discorso di Galen, assolvono a tre funzioni particolari. In primo luogo sostituiscono o rimpiazzano gli organi mancanti. In secondo luogo potenziano quelli già esistenti. In terzo luogo alleggeriscono il lavoro umano. Quindi vedete come il discorso intorno alla tecnica, nel discorso, nell'indagine di Galen, è particolarmente interessante perché si tratta di inquadrare questo tema all'interno di un quadro molto molto più vasto. Secondo Galen, il destino dell'uomo, oltre alle cose che abbiamo detto, è quello di sostituire l'organico con l'inorganico. Così la pietra andrà incontro alla sostituzione con i metalli, il legno con la plastica, il cuoio e la canapa con l'acciaio. Questo per il semplice fatto che l'inorganico è maggiormente conoscibile e manipolabile dell'organico. E presenta un minor tasso di imprevedibilità. Nel sintetizzare tutto questo discorso, si potrebbe dire che, secondo Galen, quello che attende l'uomo è un processo di intellettualizzazione. Che cosa intende con questo termine? Intende sostanzialmente un processo secondo il quale la sintesi di scienza, tecnica e industria spingono l'uomo stesso verso una estensione, una produzione abnorme delle conoscenze. spingono l'uomo verso la specializzazione sempre più forte e spingono conclusivamente l'uomo nella impossibilità di padroneggiare tutto il campo delle conoscenze. Si potrebbe dire che Galen in un certo qual modo è un sostenitore incondizionato del paradigma scientifico e tecnologico, ma allo stesso tempo lasci intravedere delle possibili crepe. Crepe che potremmo anche chiamare la comparsa di una sorta di disagio tecnologico. Così come in Freud compare un disagio della civiltà, un disagio che consiste nel sostituire la felicità con la sicurezza, allo stesso modo noi potremmo dire che l'incremento e la esplosione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche generano un disagio tecnologico, un disagio al quale tuttavia l'uomo non può sottrarsi. Non dimentichiamoci infatti che secondo Galen l'uomo è un essere carente e la carenza può essere colmata solo dalla tecnica. Vedremo come lo stesso Galen poi conclusivamente ci proporrà delle sorte di compensazioni. Il terzo modello che ora prenderemo in considerazione gravita intorno al pensiero del grande padre della fenomenologia contemporanea, Edmund Husser. Husser, al termine della propria vita, scrisse un libro che divenne fin da subito un classico. Libro che reca il titolo La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. In questa opera Husser non si lancia in una semplice opera di denuncia, in un atteggiamento di denuncia nei confronti delle scienze così come si sono sviluppate negli ultimi secoli, ma conduce un percorso molto originale, molto ricco, molto articolato, che qui ora noi non abbiamo il tempo di sviluppare adeguatamente. Secondo Husser, l'esperienza umana si iscrive all'interno di istanze originarie, istanze che per comodità potremmo chiamare filosofia, politica e scienza. Quindi la scienza va a costituire una delle componenti principali dell'esperienza umana, non certamente l'unica. Purtroppo, dice Husser, le scienze così come si sono sviluppate negli ultimi secoli hanno determinato un atteggiamento riduzionistico, cioè hanno ridotto l'uomo ad un semplice oggetto tra altri. Non è un caso che Husser parli di oggettivismo, e cioè di tendenza continua e costante delle scienze di ridurre ogni manifestazione umana a semplice oggetto. Qui cade a proposito la celeberrima definizione che lo stesso Husser diede. Una scienza di meri dati di fatto non può che produrre meri uomini di fatto. L'oggettivismo, secondo Husser, avrebbe due conseguenze particolarmente gravi. La prima, il soggetto viene allontanato come elemento determinante dell'esperienza umana divenendone una semplice appendice, appunto perché l'oggetto viene collocato al centro. Seconda conseguenza particolarmente grave, la pretesa da parte delle scienze naturalistiche di estendere la propria metodologia d'indagine a quelle che potremmo chiamare scienze dello spirito, e quindi la pretesa di indagare l'uomo con strumenti che appartengono alla scienza ma che al confronto con l'uomo paiono inadeguati, secondo Husser. A tal proposito, lo stesso filosofo dice «Nella miseria della nostra vita, si sente dire, questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scontanti per l'uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balia del destino. i problemi del senso e del non senso dell'esistenza umana nel suo complesso. Ovviamente la mera scienza di fatti non ha nulla da dirci a questo proposito. Essa astrae appunto da qualsiasi soggetto». Ora, qui tornano fuori ecchi che erano già comparsi nello stesso Nietzsche. Si ricorderà infatti come nell'aforisma 125 della Gaia Scienza Nietzsche avesse posto una domanda terribile «Non è il nostro un eterno precipitare, cioè in un contesto dove solo i fatti trovano la collocazione adeguata. Il destino dell'uomo non è quello di precipitare all'infinito senza mai trovare posa». Ora, Husser tenta di affrontare una tematica di questo tipo introducendo anche una sorta di pars costruens introducendo, cioè una proposta correttiva. A questo proposito Husser introduce, come abbiamo sentito anche nella citazione di prima, la parola senso. La scienza trova adeguata collocazione quando l'uomo ritorna ad interrogarsi intorno al senso del destino proprio, al senso e al telos della propria vita. quindi il tema del senso e del destino diventa fondamentale. Husser, a questo proposito, introduce un termine che diventerà famosissimo, ovvero sia la parola Lebenswelt, che tradotto in italiano vuol dire «mondo della vita». Bisogna far sì che la riflessione, l'opera e la produzione umana tenga conto di quello che è il mondo della vita, intendendosi con questo termine il mondo reale, evidente, storico, percepito con immediatezza dall'uomo. Quindi bisognerebbe allontanare dall'uomo quelle sovrastrutture che non permettono di vivere una vita autentica, una vita diretta. I tre modelli che abbiamo preso in considerazione offrono degli spunti molto interessanti, anche di carattere etico-politico. Preliminarmente però dobbiamo mettere in luce come all'interno di questi schemi compaiono delle contraddizioni, delle problematicità o meglio ancora delle soluzioni non definitive che sono proprio interessanti per questo motivo, per il fatto, cioè, di non proporsi come conclusivi. Se prendiamo infatti in considerazione il primo modello, quello platonico, viene fuori che il dialogo stesso non è concluso. È un dialogo dove Carmide, uno dei protagonisti principali del dialogo, non riceverà una soluzione chiara ai propri interrogativi e verrà invitato a frequentare Socrate. Si tratta di un invito, quindi, ad affrontare i problemi della saggezza e della scienza attraverso un atteggiamento di carattere propositivo, di carattere, potremmo dire così, improntato alla ricerca. Quindi, in Platone, si vuole mettere in luce questo fatto, una risposta conclusiva e definitiva non esiste. La stessa cosa vale per il modello di Galen, quello che metteva al proprio centro la grande attenzione per la scienza, per la tecnica, per l'industria. Anche in questo caso, Galen, pur essendo un sostenitore della tecnica e della scienza, ci parla di un disagio tecnologico. E cioè di un disagio che nasce per l'appunto dallo scorgere come la scienza e la tecnologia non possono essere l'orizzonte definitivo e completo della vita dell'uomo. Ma su questo punto poi ci torneremo. Il terzo paradigma, quello di Husser, non vuole essere una sconfessione totale della scienza, ma un invito a ricondurre la scienza stessa all'interno di un contesto dove esistono altre istanze originarie dell'uomo. Se volessimo, partendo da queste basi, affrontare delle considerazioni di carattere più generale, potremmo dire che il peccato grave della scienza della tecnica contemporanea consistono in quello che una filosofa contemporanea, Donatella di Cesare, ha chiamato il soluzionismo. Si intende per soluzionismo la credenza secondo la quale ogni problema debba trovare una soluzione razionale e efficace. Così facendo, tuttavia, si corre il pericolo di cadere in una duplice deriva. La prima è quella di semplificare eccessivamente la realtà. La seconda è quella di incorrere in derive antidemocratiche. Nel primo caso, infatti, adottando il metodo scientifico per qualsiasi problema, si cadrebbe nell'errore che i filosofi chiamano il riduzionismo, cioè il ridurre le diverse dimensioni dell'agire umano ad una sola variabile. Nel secondo caso, ancora più pericoloso forse, si ingegnererebbe la credenza secondo la quale solo i tecnici sono in grado di affrontare i problemi che compaiono a livello sociale, politico ed economico. La credenza, cioè, che esista una persona con poteri taumaturgici e magici in grado di affrontare qualsiasi tipo di contraddizione sociale. Noi sappiamo che questo è un pericolo molto presente nelle società contemporanee, dove l'ingarbugliarci dei problemi e l'emersione di contraddizioni sempre più evidenti portano alla richiesta di queste figure e figure che in una prima fase vanno incontro anche ad un certo successo ma che poi con il passare del tempo evidenziano tutti i propri limiti. ora capiamo bene perché sia in Platone che in Galen comparivano delle conclusioni provvisorie ovviamente con sfumature molto molto diverse. Platone ci invitava ad esercitare la scienza del bene e del male valutando per l'appunto ciò che di buono e di malvagio c'è per l'uomo non di buono e di malvagio c'è in assoluto così come Galen ci parla di un disagio tecnologico un disagio che è vero non può essere evitato secondo Galen e quindi non può essere cancellato ma che può essere compensato. Secondo Galen infatti noi viviamo in una tipica età o periodo dell'interferenza si intende per interferenza un periodo nel quale il livello tecnologico e il livello di civiltà non si pongono sullo stesso piano non sono completamente in concordia. Detto in altri termini secondo Galen l'uomo contemporaneo ha sviluppato un livello di conoscenza tecnologica che tenta di confliggere con il livello di civiltà. E' un monito questo che compare già in Tocqueville il grande studioso della società democratica che nel suo celeberrimo libro La democrazia in America aveva visto i grandi vantaggi e i grandi pregi della vita democratica ma così anche le possibili derive insite nella democrazia stessa. Aveva scritto Tocqueville infatti come possibile pericolo delle derive antidemocratiche della democrazia. vedo una folla innumerevoli di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come straneo al destino di tutti gli altri. I figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana quanto al resto dei concittadini egli vive al loro fianco ma non li vede li tocca ma non li sente. Sono parole queste di Tocqueville molto dure molto precise e che indicano per l'appunto quel possibile impoverimento della vita democratica che è dovuto ad uno sviluppo abnorme della scienza e della tecnica. Il pericolo cioè che ogni persona corra dietro ai propri piaceri minuti e volgari entri in contatto con i propri simili ma non li senta.